Bene, bentornati a questo corso sugli script bash ed eccoci arrivati alla lezione o parte numero 6 nella quale parliamo della gestione delle stringhe. Questa è una parte fondamentale, molto importante perché nella probabilità di utilizzo di uno script bash sicuramente le stringhe centrano qualcosa, ovvero sarà piuttosto difficile che qualcuno crei uno script bash per fare calcoli scientifici ma sarà molto più probabile che qualcuno faccia uno script nel quale deve gestire in un modo o nell'altro delle stringhe, un insieme di stringhe, un testo, un file di testo o qualcosa del genere. Quindi le funzionalità e le particolarità che vediamo in questa lezione sono veramente importanti perché nella probabilità delle cose saranno sicuramente fra le più utilizzate. Allora, vediamo un po', scusate che devo aggiustarmi un attimo il microfono che si è spostato, ecco, voilà, allora, in parte quello che dico qui nel primo paragrafo l'abbiamo già visto in lezioni precedenti, e quindi nel mondo dello sviluppo software in sostanza una stringhe è una sequenza di caratteri alfanumerici. Questo l'abbiamo appunto già visto, qui lo riprendo perché stiamo parlando specificatamente di stringhe, quindi lo ripeto un attimo. Quindi se A uguale a 132 è una variabile di tipo numerico, B uguale a P2 è una variabile di tipo alfanumerico, e voilà, questo è già assodato da parte nostra. Così come abbiamo ormai imparato, scusate, a conoscere bene il comando echo, per visualizzare a video, per mandare in output sul terminale, quindi sul nostro video, nel terminale che stiamo usando, una stringa di caratteri che sia poi una variabile caricata con una stringa o una stringa direttamente come in questo caso, appunto il comando echo è ciò che ci serve per visualizzare o il contenuto di una variabile alfanumerica o una stringa, e voilà, fin qui era già chiaro. Ok, adesso passiamo a quello che è la sintassi particolare del mondo bash, quindi del motore delle shell bash, che abbiamo già avuto modo di vedere che formalmente può sembrare un po' criptica, un po' strana rispetto ai linguaggi di programmazione più evoluti e più moderni, però ha la sua efficacia, è tremendamente efficace. Ecco, una sintassi un po' così, spesso si usano simboli, però appunto è molto efficace, come vedremo anche negli esempi che seguono. Quindi, si usa il carattere dollaro per espandere le variabili, espandere vuol dire praticamente prenderne il contenuto di quanto sta incluso in una variabile, quindi nella celletta di memoria che occupa una variabile, noi con il comando dollaro, l'abbiamo già visto anche questo, possiamo visualizzarne il contenuto, recuperare il contenuto. E ecco, espanderlo è un po' un gergo delle variabili, quindi c'è una variabile con il dollaro davanti, se ne espande il contenuto, lo si visualizza in chiaro. Ecco, allora partiamo dal semplice echo dollaro user, che è una variabile predefinita di sistema, anche questo l'abbiamo già visto, mi ritorna appunto Nicola, echo user, questo giusto per riprendere il discorso. Quindi andiamo a posizionarci sul nostro spezzone di script bash della lezione 6, quindi qui, ecco, non mi sono ancora posizionato, così vi mostro semmai come si fa, anche se dovreste già saperlo. Allora, cd vuol dire cambiamo directory, cambiamo cartella, non c'è bisogno di scrivere tutto, io mi devo posizionare qui, vedete qui in alto, dove è posizionato tutto il corso bash, devo andare in questo percorso. Quindi per posizionarmi lì non c'è bisogno di scrivere tutto, ma basta scrivere qualche lettera, con il tasto tab c'è l'autocompletamento, e vedete che se la cartella, il nome è univoco, viene espansa da sola, viene completata da sola. Quindi cd, documenti, poi devo andare sotto tecnica, poi sotto tutorial, poi sotto i miei tutorial, e il corso bash. Vedete che c'è uno spazio nel nome dell'ultima cartella, corso bash, qua, vedete, corso spazio bash, e lui si ferma, corso barra rovesciata, backslash e lo spazio. E quindi devo completare io con bash, e voilà, che sono entrato, faccio enter e mi sono posizionato nella cartella. Ecco, fra le varie caratteristiche sintattiche della gestione delle stringhe, vedremo proprio anche questo, guarda caso, non ho fatto a caso questo comando, change directory per posizionarmi, perché usa questa backslash, la barra rovesciata, per non far interpretare il carattere che segue, praticamente per tenerlo, per lasciarlo com'è. Nel caso presente era uno spazio, cioè è uno spazio, perché il nome di questa cartella è composto da due termini separati da uno spazio, e per far interpretare completamente corso spazio bash al comando cd, questo, il sistema di autocompletamento, già del nome della cartella, già da solo, ha provveduto a mettere una backslash, ovvero una barra rovesciata, seguita dallo spazio. In questo modo lo spazio viene considerato proprio uno spazio, e non un qualcosa da interpretare da parte di questo comando. Quindi è come se avessimo messo fra virgolette tutto il percorso senza la backslash, ma senza virgolette, è necessaria questa barra rovesciata, per far conservare questo spazio così com'è, e non farlo interpretare dal comando. Ecco, lo vedremo ancora, fra un attimo, questo concetto, se non è chiaro in questo momento. Quindi mi sono posizionato nella cartella, e facciamo partire il nostro script qui sulla sinistra, parte 06, quindi bash, corso script bash, parte 06 sh, facciamo enter e partiamo subito. Ok, allora, anche in questo caso ho inserito dei comandi intercalati read, per inserire una pausa nello script, in modo da non perderci tutto il contenuto, e poter seguire passo passo quanto succede nello script. Allora, dunque il solito clear che ci ha pulito la schermata del terminale, poi il primo comando appunto, quello semplice che conosciamo già, con una variabile preconfezionata, predefinita da sistema, eco, dollaro user, ci ritorna chi sono io connesso al mio sistema in questo momento, ed è Nicola, eccolo qua, quindi il primo comando fatto. Il secondo comando, ecco, vabbè, pippa lasciamo perdere, è uguale a pippo, non c'entra niente, è un po' la mia mania di usare questi nomi, giusto per metterci davanti una scritta, vedete che è stato interpretato questo comando, ecco, pippa uguale backslash, quindi slash rovesciate, ecco che ritorna questa slash, questa barra rovesciata, maggiore dollaro tra parentesi ls. Questo comando che cosa fa? Dunque abbiamo imparato nella lezione precedente che questa forma sintattica consente di eseguire un comando e di espandere il suo output, di portare il suo output, in questo caso verso il comando eco, ecco, quindi di includerlo nella visualizzazione del comando eco, quindi nel comando eco io dico scrivimi a video, quindi nel terminale pippa, uguale, maggiore e il risultato del comando ls. Lui l'ha fatto, ma la particolarità di questo comando è proprio che il maggiore viene scritto come qualsiasi carattere, non viene interpretato come, abbiamo imparato nella lezione precedente, come una deviazione dell'output del comando. Se io eseguissi questo comando senza la barra rovesciata prima del maggiore, il simbolo maggiore verrebbe interpretato dal motore di bash come una deviazione di output del comando eco verso questo dollaro ls che non avrebbe senso. Io volevo semplicemente visualizzare a video una freccia uguale maggiore per mostrare il contenuto, l'output del comando ls dopo la mia scritta pippa. Quindi vedete che è tornata questa barra rovesciata che semplicemente ci permette di non far interpretare al motore bash il carattere che segue. Quindi se è un carattere speciale che sappiamo che per il bash vuol dire qualcosa e vogliamo invece usarlo come semplice carattere di output, cioè per mostrarlo a video, dobbiamo farlo precedere da una barra rovesciata. Lo vedremo ancora più tardi con un altro esempio. Comunque ecco, il succo è quello del non far interpretare i caratteri speciali ma di farli considerare semplicemente un carattere come qualsiasi altra stringa. Poi le parentesi graffe, quindi non le quadre, non le rotonde, ma le graffe, servono per esempio per espandere una sequenza. Vediamo fra un attimo cosa intendo. Per visualizzare il contenuto di una tupla e questo nella lezione delle tuple, mi pare la terza, l'abbiamo già visto che si usa questa sintassi particolare con le parentesi graffe, ma qui lo rivediamo, o applicare una trasformazione ad una variabile. Quindi parentesi graffe vengono usate molto sovente per fare di tutto un po' sulle stringhe. Qui vediamo in fila una sequenza di di utilizzazioni, di modi di utilizzazione di queste parentesi graffe. Quindi faccio di nuovo enter ed ecco qua un blocco di esempi che partono da qui, le parentesi graffe, o da qui, ecco, e si ferma, lo script si è fermato qua, da questo read, quindi adesso vediamo ad uno ad uno l'effetto di questi comandi. Quindi, espandere una sequenza, prima di tutto. Espandere una sequenza vuol dire che io scrivo un comando di questo tipo, ecco, parentesi graffe, a, punto, punto, normale punto, della tastiera, e, chiusa parentesi graffe, lui automaticamente, come stringa di output, cioè come valore di ritorno, mi mette a video tutto quanto c'è fra a ed e, ecco, perché parlo di sequenza. Vale anche per i numeri, vale anche per i numeri, come vedete qui, per esempio, in due esempi sotto, ho messo, ecco, 15, punto, punto, 19, e viene espanso come 15, 16, 17, 18, 19, qui a, b, c, d, e nell'alfabeto. Può sempre venire utile in uno script, sappiate che avete la possibilità di creare delle sequenze automatiche, alfabetiche o numeriche, con questa semplice sintassi, ed ecco qui, vedete, il primo comando, ecco, parentesi, graffa, punto, punto, e, chiusa parentesi graffa, mi dà abcde, poi, quello che abbiamo già visto nelle tuple, qui, imposto nell'indice 3 di questa tupla, la stringa corso bash, e poi lo leggo, dico che, la tupla, tab, indice 3, è uguale a, dollaro, parentesi graffa, tab, parentesi quadra, indice 3, chiusa graffa, e col dollaro davanti e la parentesi graffa viene espanso il contenuto, cioè viene visualizzato il contenuto dell'indice 3 di questa tupla, infatti vedete il corso bash, poi, pipa, l'altro esempio, abbiamo un dollaro, cioè pipa uguale all'espansione, quindi dollaro, parentesi, rotonda, chiusa parentesi rotonda, dunque è, prendere l'output del comando che c'è all'interno, e metterlo, assegnarlo a questa variabile pipa, quindi il comando che c'è all'interno cosa fa? È simile al primo qua sopra, perché è un'espansione di una sequenza, questa volta numerica, dico, metti tutti i valori che ci stanno fra il 15 e il 19, nella variabile pipa, e poi sotto, dollaro pipa per mettere a video, stampare a video il contenuto della variabile pipa, e vediamo che in effetti in pipa c'è 15, 16, 17, 18, 19, perché gli abbiamo assegnato la sequenza dal 15 al 19. Poi, altro esempio, vediamo un po', fin qui siamo arrivati, qui, veramente ancora, una volta, per l'ennesima volta, questa è la sintassi decisa da chi ha creato il motore bash, dobbiamo prenderla così com'è, come ho detto, può sembrare un po' astrusa, però è molto efficace, come vedete, l'effetto di un comando di questo tipo, efficace, può essere molto utile, per avere, con un semplice comando a disposizione, per esempio, una sequenza di valori, che abbiamo bisogno per il nostro script, e qui, avete il mio esempio, come modello, potete leggervi, con più calma, il testo, che ho messo qui, che affianca sempre, l'esempio dello script, quindi, lezione 6, script 6, script bash, shell 6, e niente, io li passiamo in rassegna così, ma, appunto, dobbiamo solo prendere atto che la sintassi è questa, l'effetto è questo, e quindi tenere presente che, se serve, ci sono questi comandi criptici, ma potenti. Allora, prossimo esempio, sempre sulla linea delle sequenze, ecco, n, parentesi graffa, 1, 2, 3, chiusa parentesi graffa, la righetta xx, per esempio, ritorna n1 xx, n2 xx, n3 xx, e vedete che in effetti lo fa, eccolo qua, l'ho replicato qua, dunque, il comando in sé è, parentesi graffa, 1, 2, 3, l'n e l'xx li ho messi io, e non fanno parte, ovviamente, della sintassi, potevo mettere anche, pippo davanti, e pluto dietro, che è la stessa cosa, e non fanno parte del comando, però il succo, lo scopo di questo comando, è mostrarvi che la sequenza, dei valori, 1, 2, 3, viene integrata, in quanto, c'è una parte di stringa, che precede la n, e una parte di stringa, che segue la righetta xx, e la sequenza, viene composta, integrando il tutto, quindi vedete, n1, n2, n3, xx, ecco, quindi, adesso l'esempio un po' sciocco, con l'n xx, pensate voi, a un esempio, che potete usare in pratica, comporre una sequenza, magari con stringhe, con più senso per voi, e voilà, a dopo, qui, qualche esempio, per gestire i maiuscoli, minuscoli, di una stringa di caratteri, ecco, questi tre esempi, che seguono, vedete, come ottenere una stringa, tutta maiuscola, come ottenere una stringa, tutta minuscola, e come ottenere solo la prima lettera maiuscola, di una stringa, queste anche sono classiche operazioni, che si fanno regolarmente, nella programmazione, per delle stringhe di caratteri, succede spesso, che c'è bisogno di fare ciò, magari per i nomi, cognomi, località, che so, e qui vedete appunto, tre esempi in fila, che danno, questo risultato, quindi, il primo esempio, con questa sintassi, ci dà la stringa tutta maiuscola, quindi io assegno la variabile x, la stringa ciao mondo, che ha maiuscole solo le prime due lettere, delle due parole, e voglio tutta maiuscola, quindi, dicendo, dollaro, parentesi, graffa sempre, x, che è la nostra variabile x, appice su, non so come chiamarlo, questo qui è come un accento strano, che c'è sulla nostra tastiera, insomma, il triangolino in su, ecco, vabbè, se qualcuno conosce esattamente come si chiama, me lo dirà, questo appice qua in su, due volte, ripetuto questo appice in su, questa è proprio la sintassi, permette di maiuscolizzare tutta una stringa, in effetti, vedete il primo risultato, maiuscolo, il secondo, il contrario, la stessa stringa segnata, la stessa variabile x, viene minuscolizzata, non so se si può dire, comunque il concetto è chiaro, quindi non più i due apici qua, ma due virgole, normalissime virgole, che seguono, quindi una stringa trattata, con due virgole che seguono, fra parentesi grafici, da tutto minuscolo, voilà, e l'ultimo esempio, ottenere solo la prima lettera maiuscola, quindi in questo caso, la variabile x, ho assegnato una stringa tutta minuscola, chiamo che sia una frase di un testo, tutto minuscolo, e mettendo un singolo apici, quindi non più doppio, ma singolo, viene maiuscolizzata, messa in maiuscolo, solo la prima lettera, e vedete che il terzo esempio, ci torna, la c di ciao mondo maiuscola, ecco, quindi vedete che, pur essendo un po' astrusa, un po' strana, la sintassi è molto potente, perché con pochi caratteri, vi permette di trasformare, una stringa intera, che può essere anche molto lunga, quindi questi li abbiamo visti, poi, ecco, questi, è un'altra operazione molto importante, molto frequente con le stringhe, cioè estrarre delle parti di stringhe, quello che spesso, negli altri linguaggi di programmazione, sono operazioni che si fanno con un comando chiamato substr, substr, che sarebbe il substring, cioè una sottoparte di stringa, dall'inglese, e qui si fa con una sintassi particolare, che non è la parola substr, ma è questa, sempre con il suo bel dollaro davanti, per espandere il tutto, e le parentesi graffe nuovamente, quindi vediamo che questi esempi, che partono da qui, ecco, sempre la mia variabile x, assegnata a ciao mondo, e in questo caso gli dico, parentesi graffa, x dalla posizione 0, per 3 caratteri, e lui cosa mi torna? I primi 3 caratteri praticamente, della stringa, della frase ciao mondo, mi ritorna cia, ciao, perché sono i primi 3 caratteri, ecco, attenzione, la gestione delle parti di stringhe, funziona così, quindi il primo valore, è il punto di partenza, dal quale vogliamo partire, estrarre una parte di stringhe, il secondo valore, è quanti caratteri, attenzione un'altra cosa, lo 0, è la prima posizione, non è che parte da 1, attenzione, questo sistema, ha l'indice, che parte da 0, quindi 0, vuol dire proprio, il primo carattere, avessi messo 1, magari pensando, che tutto parte sempre da 1, non avrei ottenuto cia, ma avrei ottenuto iao, iao, perché sarebbe partito dal carattere 1 per noi, ma 2 per il sistema, e avrebbe preso i 3 caratteri, quindi, attenzione, partire dallo 0, non ho messo per, con uno scopo didattico, questo esempio, l'ho messo apposta, proprio con lo 0, per far vedere che lo 0, in realtà è il primo carattere, da considerare il primo carattere, quindi, partendo da 0, per 3 caratteri, e in effetti mi torna cia, perfetto, il secondo esempio, sempre dalla stringa, parto sempre da ciao mondo, gli dico, partire dal terzo carattere, in realtà è il quarto, noi calcoliamo sempre, che qui siamo partiti da 0, quindi, è sempre il più 1 per noi, rispetto a quello che leggiamo, quindi in realtà c'è scritto 3, ma è dal quarto carattere, e prendere, 5 caratteri, a partire dal quarto carattere, fatto l'esempio, eccolo qua, ciao mondo, vediamo un po' di contare, 0, 1, 2, 3, e 4, quindi, 0, 1, 2, 3, quindi la O, scusate, mi sono lasciato ingannare anch'io dal 3 e dal 4, comunque sono arrivato al 3, partendo dallo 0, ed è la O, il primo carattere, per 5 caratteri, quindi, 1, 2, 3, 4, 5, vediamo che il risultato è, O, MON, che giustamente a partire dal quarto carattere, per 5 caratteri, perfetto, questo è l'operazione di estrarre delle parti di stringa, la sintassi è questa, che in sé è anche semplice, una volta che è conosciuta, poi, la lunghezza di una stringa anche, ecco, quante volte c'è bisogno di dire, ma quanto è lunga in fin dei conti questa stringa, ecco, niente di più facile, assegno ad una variabile, la stringa oggi è il, vabbè, 2, 3, 2013, echo, quindi vogliamo visualizzare a video la lunghezza di questa stringa, e si mette davanti questa dash, questo cancelletto che spesso viene associato al concetto di numero, ecco, nel mondo informatico, ma non so, anche nel mondo anglosassone in sé, questo qui è un number, viene sempre associato spesso a un number, questo simbolo, dash qua, e quindi si mette davanti questo cancelletto variabile, e ci ritorna la lunghezza di questa stringa, e vediamo che ci ritorna il valore 20, che dovrebbe essere appunto la lunghezza di questa stringa, vediamo un po', se seleziono questa stringa, vediamo che qui ci dà colonne 24, naturalmente c'è davanti questi tre, e fanno 20 caratteri, giustamente. Poi, un'altra possibilità è quella di, vediamo un po' cosa dice qui, elimina tutta la stringa dall'inizio fino alla prima occorrenza di, ok, quindi, in questo caso prendiamo sempre lo stesso esempio, oggi è puntino il primo bla bla bla, e cosa voglio con questo comando? Gli dico, la variabile x, che è la nostra, questo dash, perché ci vuole, asterisco, che questo è il cosiddetto wild card, cioè un carattere wild, che serve spesso per, nelle ricerche anche in altri ambiti, non solo nella bash, ma spesso l'asterisco viene considerato come, al posto di qualsiasi carattere, e quindi lo mettiamo anche qui, diciamo, prendi in considerazione tutti i caratteri, quindi, asterisco, dall'inizio, tutti i caratteri, fin quando non trovi la prima occorrenza di un puntino, vediamo il risultato, scusate, questo qui è dall'inizio, mi sono confuso, scusate, quindi dall'inizio viene tolto tutto fino al primo puntino, e poi il resto lo considera, in effetti vedete che ho scritto, oggi è puntino, il 23 2013, questo comando quindi dall'inizio, taglia tutti i caratteri, fino al primo puntino, e tiene solo quello che segue, in effetti il risultato è il 23 2013, mi scuso per la confusione, quindi vedete il puntino è qui, il confine è questo, il comando dice, ok, qui c'è il puntino, quindi scarto tutto ciò che precede, e tengo solo quello che segue, perfetto, il comando successivo, che è leggermente diverso da quello precedente, invece elimina tutta la stringa dall'inizio, quindi scarta tutto ciò che precede, l'ultima occorrenza, e non la prima occorrenza di un carattere, nel nostro caso stiamo lavorando col puntino, ma il carattere può essere qualsiasi, il puntino è solo un esempio in questo caso, ecco, laddove qui cercava il primo puntino, e teneva tutto ciò che segue, qui cerca l'ultimo puntino della stringa, e scarta tutto ciò che precede, quindi l'ultimo puntino di questa stringa è questo, e quindi mi aspetto che mi ritorni solo il 2013, e in effetti vedete che mi è tornato qua nel terminale solo il 2013, vedete che sono tante cose, l'ho detto nella lezione precedente, che quella precedente, e queste sarebbero state piuttosto pesanti, però, vabbè, qui sono degli esempi di utilizzo, che possono essere facilmente ripresi e riutilizzati. Poi, prossimo comando, elimina tutta la stringa dalla fine fino alla prima occorrenza di, quindi qui siamo al contrario questa volta, laddove i primi due esempi eliminavano dall'inizio fino all'occorrenza del carattere cercato, questo parte da in fondo, quindi dalla fine lo elimina tutto fino alla prima occorrenza di, quindi non è più la dash, ma è il percento che lavora, quindi noi abbiamo la nostra variabile x, percento, puntino, asterisco, quindi posizionato dopo, dice tutti i caratteri dalla fine fino al primo puntino che incontri. In questo caso, vediamo un po', elimina tutta la stringa dalla fine fino alla prima occorrenza del puntino, ecco, quindi elimina tutto e tiene solo, oggi è il 2, 3, e questo qui è il primo puntino che incontra dalla fine, attenzione qui stiamo ragionando dalla fine verso l'inizio della stringa, quindi il primo puntino incontrato è questo dopo il 2013, quindi elimina tutto ciò che c'è dalla fine fino a lì, e tiene solo ciò che c'è dall'inizio fino a quel punto, quindi il ritorno di questo comando è oggi è il 2, 3, in effetti oggi è il 2, 3. L'ultima combinazione di questi comandi è, elimina tutta la stringa fino all'ultima occorrenza, quindi sempre specularmente a quelle che abbiamo visto prima, questa volta la variabile x con 2%, con il puntino che è quello da cercare, e l'asterisco in fondo, dice cosa fa? Cerco l'ultimo puntino, partendo da in fondo dalla stringa però, quindi l'ultimo puntino dal fondo della stringa è questo, quello dopo la parola è, e quindi elimina tutto dalla fine della stringa fino al puntino, e tiene solo quello che c'è dall'inizio fino a quel punto, quindi il comando mi aspetto che mi torni oggi è, e in effetti vedete che mi torna oggi è. Ecco, non so fino a che punto sono riuscito ad essere chiaro, a spiegare, però se eseguite anche voi questa parte di script, e con calma vi guardate l'effetto dei comandi rispetto alla stringa di partenza, che opportunamente l'ho messo uguale per tutti i comandi, potete riprendere mentalmente quello che vi ho detto, e vedete l'esempio e il risultato, quindi è una questione di inizio stringa, di fine stringa, di cercare un carattere, di tagliare la stringa o dall'inizio o dalla fine, questi qui sono comandi molto potenti, che aiutano a gestire in modo veloce delle stringhe che abbiamo bisogno di gestire. Ecco, si sono fermati qui, andiamo avanti, ecco finalmente arriviamo alla, quindi questi li abbiamo visti tutti, e arriviamo alla backslash, cioè ovvero alla barra rovesciata, che abbiamo già visto in un paio di occasioni in precedenza, qui non facciamo altro che confermare a cosa serve la barra rovesciata, cioè a non interpretare i caratteri speciali, speciali per il motore della bash naturalmente, che possono essere il dollaro che viene usato molto spesso, o il maggiore che devia l'output di un comando verso un altro, e quindi se, ecco qua, se io uso questo comando, ecco, barra rovesciata, dollaro user, in realtà il dollaro user non mi ritorna a Nicola, perché non viene interpretato, ma mi ritorna proprio dollaro user, perché il dollaro non vi, questa barra rovesciata gli impedisce di essere interpretato, e viene considerato un carattere come tutti gli altri, quindi mi ritorna la stringa dollaro user, vedete qua, dollaro user, dollaro user. Poi, ci sono ancora le virgolette semplici, quindi le virgolette semplici sono gli apici praticamente, che permettono di non far interpretare né comandi né espansioni di caratteri speciali, quindi se noi includiamo una stringa nelle virgolette semplici, quindi gli apici, eccole qua, l'apice, magari ingrandisco un attimo, vediamo un po' se ce la faccio, ecco qua, vedete, quindi l'apice semplice mentre questa è la virgoletta doppia, ecco, voilà, quindi se includiamo una stringa con comandi tipo questo o questo, questi qui normalmente verrebbero interpretati o espansi, cioè il dollaro UMI mi dovrebbe tornare Nicola, mentre il file musica dollaro TXT PIPPA mi dovrebbe tornare l'elenco, scusate, dei file che finiscono con un'estensione TXT in questa cartella, normalmente, se non li avessi inclusi fra le virgolette semplici, avendoli inclusi fra le virgolette semplici, vedete che, ora, sopra l'esempio non incluso nelle virgolette, quindi viene espansi i due comandi, vengono interpretati, quindi vedete senza virgolette, mi viene scritto che nella cartella musica ho un solo file di testo TXT che è questo, vedete, è stato interpretato, e PIPPA maggiore o uguale a Nicola, quindi anche il comando dollaro UMI è stato interpretato. Con le virgolette semplici, vedete che viene tornato tutto come una stringa originale praticamente, non è stato interpretato nulla, non è stato espanso il comando file che mi dovrebbe elencare il file dollaro punto TXT, non l'ha fatto, non ha interpretato nemmeno la barra rovesciata maggiore, ma l'ha proprio lasciata così com'è, e non ha interpretato neanche il dollaro UMI, proprio l'ha lasciato originale, questo è l'effetto delle virgolette semplici. mentre ci sono, hanno un certo effetto anche le virgolette doppie, quindi le virgolette doppie hanno un effetto a metà strada, quindi interpreta solo una parte, ma non tutta di una stringa tipo questa. vediamo cosa intendo, quindi sempre riprendo il risultato senza le virgolette, quindi comando file espanso e il comando UMI interpretato, con le virgolette doppie, cos'è successo? Che il comando file non è stato interpretato, ma almeno l'espansione, quindi almeno il carattere speciale dollaro UMI è stato interpretato, mentre tutto il resto no, vedete? A differenza di questo sopra, con le virgolette semplici, che proprio non succede nulla, quindi anche il dollaro UMI è ancora lì così, come fosse una stringa di caratteri normale, almeno con le virgolette doppie, la prima parte rimane non interpretata, quindi un comando non è interpretato, ma almeno il dollaro sì. Ecco, questo è giusto da sapere, che quando scrivete una stringa, di solito usate le doppie virgolette, che diventa rosa nella sintassi, vedete qui, però fate attenzione, dove usate le virgolette semplici, le virgolette doppie, perché hanno un effetto sui comandi eventualmente inclusi in una stringa, che possono essere interpretati o meno. Quindi tutto lì. Sì, tutto lì, appunto, perché spesso magari in un comando eco, che è tipicamente di caratteri, quindi di stringa, si può mettere del testo semplice, ma si possono anche innestare parti di comandi come questo, per creare una frase che abbia un senso per noi, magari con un valore di una variabile integrata in un certo testo. ecco, e quindi attenzione a magari non mettere fra virgolette semplici e non mettere fra virgolette doppie, laddove vogliamo che un comando o un carattere speciale vengano interpretati o meno. Voilà. Magari volete proprio l'effetto contrario, ecco, volete, come ho fatto io qui, visualizzare a video il comando non interpretato per mostrare com'è, allora questo è l'effetto voluto, quindi lo si mette fra virgolette, se no non lo mettete per farlo interpretare un po', questo è il succo del tutto. Voilà, questo è fatto, abbiamo quasi finito. L'ultima parte, in effetti, è la modifica di una stringa, in parte abbiamo visto sopra come si possono estrarre parti di stringa, come si può fare a diventare maiuscolo, minuto, eccetera, eccetera, ma c'è ancora un comando in più che permette di fare ulteriori modifiche, se si vuole, se è necessario, ecco il comando tr per trasformare, modificare la forma o il contenuto di una stringa in alcuni modi, ecco qui solo alcuni esempi per mostrarvi l'effetto di questo comando tr, quindi eravamo arrivati qui, faccio enter, l'ultimo enter, oh, non qua però, ma nel terminale, ecco qua, ecco qui ho usato il comando tr, o meglio con un pipe, che abbiamo imparato nella lezione precedente, devio la stringa che vorrei visualizzare a video, quindi questo è un messaggio stringa, lo invio attraverso il comando pipe al comando tr per farlo trasformare, in questo caso il primo esempio che cosa fa? Lo mette in maiuscolo, vedete, scritto Q maiuscolo, questo è un messaggio stringa, tutto minuscolo, questo comando dice tutto l'alfabeto che trovi, a Z minuscolo, trasformalo in maiuscolo, e in effetti questo è un messaggio stringa, ecco, tra l'altro, lo ripeto anche se l'ho già detto, io vi mostro degli esempi di utilizzo di questi comandi, che però hanno molte più opzioni, da più a molte più opzioni solitamente questi comandi, tipo il tr, quindi voi avete la possibilità, come ho già detto nella lezione precedente, di andare a visualizzare in dettaglio le potenzialità di questo e gli altri comandi, con il comando man, manuale, per vedere il manuale del comandi, quindi ricordatevelo, io qui vi mostro 4-5 esempi, però appunto, spesso e volentieri questi comandi sono molto più espansi, naturalmente non possiamo, per ragioni anche di lunghezza, sia del corso che dei video, non possiamo vedere tutto in dettaglio, ma ricordatevi sempre che avete la possibilità, nel vostro terminale, di scrivere man, spazio, il comando, e vederne i dettagli, quindi vediamo che il primo effetto, quindi, gli si dice, nel primo parametro, cosa deve cercare, nel secondo come trasformarlo, quindi tutto l'alfabeto, dall'A alla Z, trasforma le maiuscole, e lui l'ha fatto, pintata maiuscola. Un dettaglio qui è il carattere accentato, che è sempre un po' particolare, vedete che l'unico rimasto minuscolo, è la E accentata E, a questo si rimedia, aggiungendo all'elenco, diciamo, all'insieme dei caratteri da cercare, da trasformare in maiuscole, aggiungendo appunto la E accentata, e aggiungendola anche, alla fine, nella trasformazione di riguarda, devi trasformarla così, e in effetti, nel secondo esempio, vedete che anche la E accentata, è diventata maiuscola. Questo è giusto per farvi vedere, come si gestiscono, i due insiemi, di partenza, e di trasformazione di arrivo. Eventualmente, è anche possibile, trasformare la E accentata, in una E apice, come si fa spesso, nell'interfaccia caratteri, per non avere problemi, con dei caratteri speciali, come la E con l'accentro, si trasforma in E col apice, e vedete che, la nostra stringa di partenza, questo è un messaggio di stringa, con il comando TR, si dice, cerca la E accentata, e trasformala in E col apice, e in effetti, vedete che è stato trasformato, il risultato in questo, è un messaggio di stringa. Terzo ultimo esempio, gli si dice, di cercare, tutte le S, di questa stringa, e al posto della S, metterci un dollaro, così, non ha un gran senso, ma tanto per mostrarvi, cosa vuol dire trasformare, il contenuto di una stringa, e quindi, vedete il risultato, dove c'erano le S, questo, è un messaggio, stringa, tutte le S, sono state cambiate, sostituite con un dollaro, con un semplice comando. Penultimo esempio, gli diciamo, di togliere, dalla stringa, tutte le S, quindi, sopra, abbiamo detto, semplicemente sostituisci le S, con qualcos'altro, e qui diciamo, meno di, delete, di cancellare le S, dalla stringa, e vedete che, il risultato è, questo, perché non c'è più la S, è un, meaggio, stringa, perché tutte le S, sono state tolte, e anche questo, è piuttosto potente, come comando, semmai, ci serva di trasformare, ci serva trasformare, delle stringhe, in un determinato modo, di ripulirle, da determinati caratteri, adesso qui ho tolto la S, che non ha molto senso, ma avessimo, una fonte, di testo, particolare, magari, sporcata, con caratteri strani, che so io, chioccioline, cancelletti, da togliere, con questo comando, basta dargli, in pasto, con questa sintassi, il nostro testo, e voilà, che viene ripulito, immediatamente, da quel tal carattere, e voilà, vedete che, funziona perfettamente, ultimo esempio, per questa lezione, vediamo un po', cos'è che fa questo esempio, cerca il carattere G, e lo sostituisce, con, un asterisco, ecco, la particolarità, dell'opzione, meno S, è che, tutte le occorrenze, di G, doppie, o triple, o non doppie, moltiplicate, vengono sostituite, comunque, da un solo, occorrenza di asterisco, cosa intendo, guardiamo, il risultato finale, che è più semplice, abbiamo, la partenza, che è, questo è un messaggio, quindi, due G, qua, e una G, qua, questo comando, tr, meno S, cerca le G, sostituisceli, con gli asterischi, vedete, che ha sostituito, le due G, di messaggio, con un solo asterisco, e anche la G singola, di stringa, con un solo asterisco, quindi lui, ogni occorrenza di G, anche ripetuta, di fila, le sostituisce, comunque, con una sola occorrenza, di qualcos'altro, anche questo può, essere utile, ecco, ho finito, anche questa lezione, che è stata, più che altro, una sequenza, mi rendo conto, anche piuttosto impegnativa, di sintassi, più che mai strana, ma molto potente, ecco, quindi se, lo rivedete per conto vostro, e ci ragionate sopra, un attimo, vedete quanto, sono potenti, questi comandi, pur strani, ma molto potenti, questo è molto importante, questo capitolo, perché, come ho detto all'inizio, le stringhe, sono usate molto spesso, sono oggetto, molto spesso, del lavoro, degli script bash, che, può essere utile, creare per conto nostro, ecco, quindi, con questo chiudo, e, vi ringrazio, per l'ascolto, per l'attenzione, se mai, se siete ancora, all'ascolto, naturalmente, di questo corso, ormai, alla sesta lezione, vi aspetto, alla settima, un saluto, ciao, ciao.